...piazzo sportivo, in occasione della gara, da uno o più dei propri sostenitori, si è del fatto di vivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. Le stesse raccomandazioni mandano anche ai trasferimenti dei tifosi. Di non accendere e o lanciare fumogeni, di non lanciare rotoli di carta, petardi, bombe carta, monete, seggiolini, oggetti contundenti vari, sputi sia nel recinto di gioco, nel terreno o in altri settori dello stadio. La Sama Calcio fa presente ai propri sostenitori che la violazione di almeno uno dei punti sopraenunciati comporta gravi sanzioni pecuniarie e in caso di recitiva specifica è in fitta la spalettura. Il centro commerciale Porto Grande, il piacere di scegliere il centro commerciale Porto Grande, in collaborazione con Radio Sula, vi offre la fumazione della San Bernardese Calcio con il numero uno Andrea Consigli, con il numero due Fabio Chinazzi, con il numero tre Pietro Barriale, con il numero quattro Marco Giovine, con il numero cinque Andrea Esposito, con il numero sei Emanuele Ondaida, con il numero sette Massimiliano Carrini, con il numero otto Massimo Caprisa, con il numero nove Tagliere Movente, con il numero dieci Davide Besiteri, con il numero undici Nicola Olivieri. In Pechina con il numero dodici Cessari, numero trentici Zappunto, numero quattordici Grillo, numero quindici Fanelli, numero sedici Giorgino, numero diciassette Simonetta, numero diciotto Fragello, allenatore signor Marcello, con il ruolo grido Barraza Salve! Il ruolo curatore di Buffon, il portiere Sibano Martino, la F7 andevole, quindi il ruolo sta passando con Torino. Stai, stai, stai Stai, 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 stai Stai, 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 stai Stai, 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 st è un ladro e poi c'è un piatto a Mortimer Mortimer Mortimer